benvenuti benvenuti alla puntata di oggi la puntata di oggi di stampa evangelo facciamo partire con un bel palloncino bianco del popolo la famiglia ricordando che siamo come sempre in attività e in attività per raccogliere le firme per le liste del popolo la famiglia per presentare questo simbolo alle elezioni e raccogliendo firme anche per la legge di iniziativa popolare sul reddito di maternità guardate bene il simbolo lo volete sulle schede dateci una mano a far firmare le liste in tutta italia perché è fondamentale che questo simbolo sia presente alle prossime elezioni politiche europee ovviamente politiche in senso politiche generali visto che voterà tutta italia grazie grazie a voi per il lavoro che fate sulla raccolta firme saluto giovanni fiori piera giacometti mirco de carli chiara san morì i primi ad arrivare a questa diretta gabbiele marconi rossano giorello un altro conduttore della pdf tv gabbiele marconi oggi ha firmato un importante articolo che trovate citato in prima pagina sulla croce riguardo alla questione new york legge sull'aborto con tutte le precisazioni in materia di aborto e legislazione dello stato new york per rispondere alle critiche di chi diceva che avevamo spacciato fake news anzi l'attacco era dall'eteglia non a noi ma noi abbiamo difeso anche all'eteglia grazie a questo scritto di gabbiele marconi oggi la prima puntata sulla croce domani la prima la seconda puntata sempre da parte di gabbiele marconi quindi un lavoro molto meticoloso per avere gli argomenti per rispondere su questo tema e dunque il consiglio come sempre leggere la croce tutti i giorni la mattina stampa evangelo serve a ricordarvi anche che abbiamo un quotidiano di riferimento che tutti i giorni produce materiali sugli argomenti scottanti saluto elena di pietra che bello vederti dopo l'iniziativa di castel vetrano un mese fa saluto giuseppe ficca gabbiele marconi ci racconta di un'altra giornata cruciale in pakistan oggi sulla questione asia bibbi ne parleremo domani sulla croce domani un numero pazzesco sulla croce preparatevi quindi chi vuole può abbonarsi a www lacroce quotidiano.it slash abbonarsi trattino ora saluto margherita ruffino gabbiele rossi antonio grauso antonello de jana pdf sardegna partiamo come sempre dalla lettura del vangelo poiché è un bel vangelo sempre il vangelo di marco come dicevamo ieri a proposito grazie per le 6.000 persone che hanno seguito la puntata ieri di stampa evangelo un numero molto importante adesso vi chiedo un like alla diretta silvia viene salutare i nostri amici in diretta eccoci qua andiamo a salutare c'è anche io io di là giusto potrebbe partecipare più tardi magari in sorpresa come guest star alla diretta saluti tutti benissimo baci alla moglie che nel frattempo fa tacere la figlia che vorrebbe vorrebbe piangere ma non può durante le puntate di stampa evangelo quindi un like se vi piace questa diretta una condivisione sul vostro profilo perché parleremo di cose credo in qualche modo rilevanti ieri la puntata ha fatto numeri molto importanti e come sempre abbiamo parlato controvento controcorrente su alcuni temi specifici abbiamo affrontato il tema della normalità andiamo a guardare la puntata di ieri perché ogni puntata adesso di stampa evangelo cercherà di affrontare sempre controcorrente qualche tema su cui veniamo interrogati quindi cerchiamo di dare materiali attraverso stampa evangelo per la riflessione di tutti oggi il tema sarà l'immigrazione un altro tema caldo dopo i temi che abbiamo affrontato ieri saluto giuseppe melluso che è stato rappresentante di lista del popolo famiglia sciacca saluto mira d'angelo meri rossi un abbraccio davvero a meri a tutto il pdf di padova eccola qua giulio suardi se ne in tanti allora dicevo il like il condividi ma soprattutto la condivisione del link attraverso tutti i vostri canali messenger whatsapp facebook affinché la lettura del vangelo che stiamo per andare a fare vangelo di marco capitolo 3 sono oggi solo cinque versetti sia raccolta da più persone possibili perché è sempre la luce che va a illuminare il lavoro che poi faremo sulle tematiche della quotidianità ad esempio appunto sul tema dell'immigrazione dunque un like un condividi il link inviato a tutti i vostri amici leggiamo insieme il vangelo di marco di oggi saluto andrea cavenaghi che oggi riesce a seguirci in diretta del pdf monza brianza saluto vito pietro lo porcaro pdf di bari massimiliano esposito pdf di napoli ho visto antonio il pdf di foggia grazie davvero a tutta italia che partecipa a queste dirette ora cerchiamo di arrivare a più persone possibili con le condivisioni ma prima di tutto il vangelo ripeto il vangelo secondo marco in quel tempo giunsero la di gesù e i suoi fratelli e stando fuori lo mandarono a chiamare tutto attorno era seduto alla folla e gli dissero ecco tua madre i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano ma egli dispose loro chi è mia madre chi sono i miei fratelli girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno disse ecco mia madre e i miei fratelli chi compie la volontà di dio costui è mio fratello sorella e madre parole al signore davvero meravigliose di una forza dirompente sempre scandalose sembra quasi rinnegare la madre ma non è così è una capacità di essere connessi in termini di rapporto parentale fraterno con tutti coloro che vogliono essere parte di questo corpo mistico saluto marcello baldini che proprio è al banchetto della galleria di ravenna ho visto margherita ruffino del pdf di cuneo vedo jacopo pioli che ci sta scrivendo dall'australia insomma è bellissimo ritrovarci in così tanti ora affrontiamo questo benedetto nodo della nave sea watch proprio partendo da questo tema il tema della fratellanza della fraternità è un tema che ha affrontato anche giovanni marco tuglio brillantemente nel suo intervento all'assemblea nazionale il 20 gennaio teniamo presente un punto evidente noi non siamo a sostegno di questo governo è noto che siamo in opposizione al governo giallo verde però sul caso sea watch è obbligatoria una riflessione una riflessione che ci viene suggerita saluto fabrizio delle piane che ci ha messo un like mentre va in tribunale saluto antonio bersanetti che trova interessante l'intervento intitolato gente che è stata muta che è l'intervento che appunto ho dedicato al tema della sea watch ripeto la puntata di oggi ci viene suggerita dal fatto che in molti si sono mobilitati ho visto i parlamentari del pd ho visto le manifestazioni di questa non siamo pesci per dire bisogna far sbarcare i 47 migranti dalla sea watch ho affermato in punto nel testo che ho intitolato gente che è stata muta che coloro che hanno legittimato i lager libici con cui la dottrina minniti del governo gentiloni ha provato a fermare i flussi migratori non può parlare oggi perché certo non sono pesci ma è appunto è gente che è stata muta quando veniva praticata una condizione di stop ai flussi migratori fondata su occhio non vede qualche non duole cioè con l'accordo con i tagliacoli libici che hanno racchiuso non 47 ma forse 47 mila migranti in condizioni di campo di concentramento nazista e ho provato anche a darvi dei documenti filmati nei commenti a quel testo per farvi vedere quanto pesante fosse quell'operazione quegli stessi parlamentari del pd che vanno sulla sea watch oggi a fare passerella sono i parlamentari pd che hanno sostenuto la dottrina minniti che lo ripeto era la costruzione di lager in territorio libico dove coloro che avevano attraversato il deserto venivano fermati per impedire che arrivassero in italia e comunque arrivavano molto di più nel biegno 2007 2017 2018 prima dell'avvento il primo giugno del governo giallo verde sono arrivati 300 mila sbarchi nel governo periodo di governo giallo verde che ormai è arrivato a otto mesi ne sono arrivati 20 mila questo è il tema noi indicammo in campagna elettorale evidentemente il tema della moratoria sugli sbarchi noi dicemmo bisogna fermare gli sbarchi per costruire però quello che manca al governo che manca a salvini è uscire dalla fase cinica la fase cinica è quella fase in cui tu fai qualcosa che serve solo la tua campagna elettorale allora uso lo slogan dei porti chiusi per fare campagna elettorale far volare la lega evidentemente molto in alto senza pormi il problema complessivo perché il problema è non solo complessivo ma anche complesso noi fin dal programma elettorale del 4 marzo abbiamo provato a dare un'indicazione complessiva e complessa noi abbiamo detto gli sbarchi vanno fermati quindi fino a questo punto siamo esattamente d'accordo con la linea del governo con la linea di salvini per noi è giusto non far scendere i 47 dalla si watch lo dico con chiarezza è giusto però perché per quale visione complessiva la visione complessiva che noi vogliamo portare avanti è quella che si chiama accoglienza sostenibile che abbiamo messo in programma elettorale quando abbiamo fatto campagna elettorale un anno fa e che ripetiamo oggi perché noi abbiamo una visione sul tema immigrazione l'espressione accoglienza chiesa sostenibile è anche al centro della pastorale di papa francesco quindi deve essere chiaro questo chi dice che la chiesa è immigrazionista forse si riferisce ad alcuni segmenti della chiesa la pastorale di francesco è la pastorale che si definisce dell'accoglienza sostenibile stefano fusi dice da cattolico non posso essere dell'idea che tenere disperati in mare a tempo indeterminato sia giusto voglio rispondere a stefano fusi con chiarezza noi abbiamo in questo momento una tragedia epocale da gestire si può gestire nella modalità alfano perché io parlo di politica quindi devo parlare delle soluzioni politiche nella modalità alfano era sostanzialmente vengano tutti io organizzo un business attraverso i cara e nei business magari i nostri ci mangiano pure sopra penso al cara di mineo tanto per essere chiari quindi ne arrivano a centinaia di migliaia in maniera indiscriminata e sono fonte per dirla con nuzzi vi ricordate il famoso ex detenuto che con carminati è stato processato a roma capitale nel processo per mafia capitale che quei migranti valgono più della cocaina perché sono fonte di reddito e di business e questo è il metodo alfano per capirci governo letta renzi poi c'è stato il metodo governo gentiloni che è stato il metodo minniti metodo minniti costruisco degli accordi con la libia dove non c'è più un governo legittimo non c'è più gheddafi ci sono delle bande di tagliacole che si dividono nel territorio e faccio l'accordo con le bande do dei soldi miliardi di euro ci pensino loro questi con miliardi di euro se li intascano fondamentalmente e costruiscono 50 questo è un dato delle nazioni unite 50 lager dell'onu sul territorio libico lager del territorio libico poi visitate dall'onu e quindi possiamo chiamarli lager perché sappiamo cosa sono ho messo documenti filmati e così faccio abbassare il numero di flusso migratorio la libia ogni tanto quando vuole spillarmi altri soldi me ne manda altri libera un po di migliaia di persone in mare e così spilla altri quattrini per fare cosa per fare i lager questa è la linea del governo gentiloni sostenuto da tutti i deputati pd martina ministro orfini presidente del pd in testa che oggi stanno facendo passerella sulla sea watch ripeto non c'erano 47 in quei 50 lager ma probabilmente più di 50.000 poi c'è la dottrina salvini la dottrina salvini è slogan chiudo i porti e qui interviene la discussione con stefano fusi stefano fusi dice è ingiusto a tempo indeterminato costruire questo tipo di condizione io sono assolutamente d'accordo in tempo di prospettiva non si può fare così qui interviene la visione che va oltre il cinismo di salvini salvini dice semplicemente non sbarchino i 47 della sea watch noi diciamo qualcosa in più noi diciamo non sbarchino se ne faccia carico l'europa segnatamente come dice bene il governo si faccia carico di questi 47 l'olanda perché la sea watch batte bandiera olandese l'olanda dice no io non me ne voglio far chiarico a quel punto si pone il problema a livello europeo la nostra visione è quella della riapertura dei flussi migratori controllati pro quota contrattativa complessiva all'interno dell'unione europea noi ci candidiamo alle elezioni europee vi candidiamo vi chiediamo di firmare per questo simbolo e votarlo il 26 maggio al parlamento europeo perché riteniamo di dover essere quelli che portano questa visione a livello continentale i 47 devono andare in olanda è giusto che sia così complessivamente vanno riattivati i flussi migratori che ora sono chiusi e vanno riattivati in maniera controllata pro quota secondo ogni necessità delle singole nazioni facendosi tutti quindi parzialmente carico di un problema che è epocale che può portarsi a firmarsi anche a ricchezza ci sono molte aziende del nord est che hanno bisogno di mano d'opera e volentieri impiegano mano d'opera che proviene dalla migrazione così come aziende agricole al sud si possono costruire dei flussi che in questo momento sono bloccati e si può soprattutto far sì che vengano le persone senza dover attraversare il deserto e il mare ma con il biglietto aereo che costa 700 euro non con i 4.000 euro che danno agli scafisti attenzione perché i 4.000 euro che vengono dati agli scafisti evidentemente segnalano che quelli che li pagano appartengono peraltro al ceto medio delle nazioni africane 4.000 euro in africa sono un'enormità ceto medio cosa vuol dire maschi adulti e infatti se guardiamo gli sbarchi 2017 2018 su 300.000 il 90 per cento è composto da maschi adulti una buona parte dei quali inevitabilmente ed è testimoniato dalle cifre che io ho inserito di non capiamo moriamo vengono a fare non solo manovalanza per la criminalità ma organizzano essi stessi dimensioni criminali organizzate penso alla mafia nigeriana ma penso anche al reticolato molto denso di spacciatori tunisini algerini magrebini che ci sono in tutte le nostre città che lavorano a stretto contatto con la criminalità organizzata nostrana quindi non ci mettiamo a fare i razzisti è l'intreccio tra una criminalità organizzata nostrana del sud ma che agisce ormai non solo al sud alleata con mafia nigeriana rete di spaccio fatta ripeto da tunisini algerini magrebini che rappresentano peraltro la percentuale più alta dei detenuti nel nostro paese e se decine di migliaia sono i detenuti pensate quali sono quelli in azione senza essere detenuti per evitare questo non devi far arrivare in italia quelli che possono pagare 4.000 euro agli scafisti e resistono a una traversata del deserto una traversata del mare perché evidentemente questa è una selezione che già alla base individua il maschio adulto forte come capace di fare tutto questo e individua anche un genere di appartenente alla classe media di questi paesi noi vogliamo dare risposte a chi ha bisogno veramente allora costruiamo i corridoi umanitari i flussi controllati pro quota per ciascun paese europeo e facciamo arrivare quelli che hanno bisogno davvero quelli che hanno bisogno davvero e come dice maria raffaella con il biglietto aereo e con la voglia di venire a fare un lavoro onesto chiamati per fare un lavoro onesto clara ferranti dice sì si può io l'ho appena fatto mi sembra abbia funzionato ma noi stiamo cercando di dare un quadro complessivo per gestire l'emergenza migratoria poi certo esiste il problema lo segnala gerardo store della liberazione dall'occupazione africana che arriva il neocolonialismo tutte tematiche evidentemente importanti e che dobbiamo affrontare ma la questione complessiva è come si affronta questa emergenza si affronta chiudendo i porti ma non per fare ideologia per fermare gli sbarchi si va in europa e magari si vota popolo della famiglia eh si firmano le liste del popolo della famiglia e si vota questo simbolo affinché si imponga una condizione di flussi migratori controllati pro quota per nazione e dunque la fatica e il sacrificio che chiediamo ai 47 migranti della sea watch è utile per questa finalità non per fare campagna elettorale salvini per prendere più voti alle europee o peggio per martina orfini e deputati del pd o persino la prestigiacomo per fare passerella per fare passerella per sempre per finalità elettorale sono due cinismi sono due cinismi due opposti cinismi più grave ancora quello degli orfini e dei martina perché gli orfini e martina sono quelli che invece collaboravano e stavano zitti erano gente muta è lo scritto che ho lasciato prima di questa diretta quando si facevano i lager libici perché occhio non vedesse e cuore non dolesse dove però invece di 47 migranti in 50 campi di concentramento sul territorio libico ne venivano tenuti almeno 50.000 io spero che questa riflessione evidenzi la posizione del popolo la famiglia in materia di migranti si chiama accoglienza sostenibile è pienamente in linea con la pastorale di quest'uomo che vedete qui dietro che si chiama papa francesco rifiuta l'assalto incontrollato alle coste italiane che serviva semplicemente a fare business sulla pelle dei disperati punta a stroncare i mercanti di uomini che agiscono sul territorio africano ma purtroppo consponde anche sul territorio italiano e spesso con la complicità delle cosiddette ong richiama l'europa a una responsabilità collettiva se l'europa esiste e noi andiamo alle elezioni europee per dire che quest'europa non ci piace ma l'europa può esistere se si fa carico di questi problemi collettivamente grazie a don natalino bonazza uno dei tanti sacerdoti che ci segue sostiene il pdf di venezia e parla di accoglienza sostenibile anche lui con questi argomenti si va a fare una campagna elettorale sui temi della migrazione che è una campagna che ha un senso anna del guerra che è intelligente vede la radice di questo discorso che sta nella gaudium et spes come sempre diciamo noi del popolo la famiglia facciamo fondamento sulla dottrina sociale della chiesa e la gaudium et spes è evidentemente uno degli elementi una enciclica fondamentale della costruzione complessiva della dottrina sociale della chiesa dunque noi siamo contestuali al nostro retro terra culturale ma per dare delle soluzioni concrete concrete alle emergenze alla tragedia che è il fenomeno migratorio in questa stagione del nostro tempo a cui siamo chiamati a dare risposte non però lo dico sia a salvini che a orfini non risposte ciniche da campagna elettorale servono risposte per dare una soluzione complessa a un problema complesso e dunque questa occasione la sea watch 3 battente bandiera olandese è un'occasione per una riflessione complessiva che chiama in causa la civilissima olanda dell'eutanasia dell'aborto dei matrimoni a tre dei genitori a cinque e però i 47 migranti non li vuole e allora qui casca tutto qui si capisce che le prediche che arrivano da un certo pelosissimo fronte nord europeo che accusa l'italia sono prediche in realtà interessate a non essere corresponsabilizzate sul tema migrazioni allora noi qui interroghiamo l'europa qui davvero ci schiediamo pur essendo critici col governo per l'azione che sta compiendo e chiediamo la corresponsabilizzazione olandese immediatamente senza mezzi termini lo diciamo senza nasconderci gli sbarchi sul territorio italiano vanno fermati va fermata la tratta di esseri umani che sta arricchendo bande di mafiosi africani e italiani va fermato il business immigrazionista gestito sul territorio italiano vanno costruiti i flussi migratori controllati condivisi pro quota e attivati con trasferimento aereo con il trasferimento a euro che costa aereo che costa 700 euro non ne costa 4000 e permette di dare aiuto concreto anche al quel ceto basso della popolazione africana che viene escluso dalla dimensione migratoria perché i 4000 li danno solo i maschi adulti appartenenti al ceto medio che sono quelli che possono sopravvivere alla traversata nel deserto e al passaggio nel mediterraneo io spero che il discorso sia complessivamente chiaro la risposta che noi diamo si chiama accoglienza sostenibile ed è esattamente dentro il magistero della chiesa si chiama accoglienza sostenibile secondo la lezione di papa francesco e la tradizione della dottrina sociale che affonda le radici nella gaudium et spes spero di aver dato tutte le risposte che servono su questo argomento anna del guerra sottolinea non siamo un movimento di proposta di protesta non solo di protesta ma di proposta e queste sono le nostre proposte evidentemente spero che questi argomenti possano essere utilizzati con chiarezza anche nel contesto continentale bartolomeo notarangelo fa notare che il cinismo di salvini è a scadenza così come è stato il cinismo contro i meridionali è a scadenza elettorale piera piera giacometti dice che il tema è stato chiarito sono lieto anche rossano giorello mi sembra convinto così donatella baruffaldi cecilia bini dice far firmare e votare fate firmare le liste del popolo della famiglia questo simbolo deve stare sulla scheda maria letizia quattrini dice perché la chiesa non pronuncia mai la parola sostenibile la pronunciamo noi e devo dirti però cara maria letizia che io cito la parola sostenibile accanto alla parola accoglienza perché quel signore lì dietro vestito di bianco l'ha detto esplicitamente vai a trovare nei suoi discorsi leggi la croce dove i suoi discorsi vengono pubblicati in maniera integrale e scoprirai che l'espressione accoglienza sostenibile è esattamente l'espressione che usa papa francesco la strategia in europa mi chiede daniela sgobino è molto chiara da parte nostra noi ci appoggiamo stiamo lavorando per entrare nel partito popolare europeo eleggere un cattolico a presidente della commissione europea si chiama weber e la nostra finalità dunque tattica o strategica è questa eleggere weber presidente della commissione europea avere dunque un cattolico a presidente della commissione europea portare i nostri voti nel principale partito dell'europarlamento e poi da lì fare le battaglie anche con soggetti con qui abbiamo relazioni come fides di orban con gli ungheresi con tutte le persone che anche il gruppo di visegrad che però deve capire anche il gruppo di visegrad che deve dare anche disponibilità alla sua quota di flusso migratorio perché la corresponsabilizzazione deve essere di tutti e 27 i paesi dell'unione europea giovanna come se questo è roberto foppa dice sempre non rispondo sulla bonino che ha avuto che sta difendendo grande l'italia da ricevuta da papa francesco bonino papa francesco riceve tutti i potenti diciamo le persone rilevanti ha ricevuto persino il segretario il presidente del popolo della famiglia quindi che il papa abbia incontrato emma bonino non mi preoccupo ovviamente se si da sponda la bonino è un errore noi non abbiamo mancato di sottolineare l'espressione grande d'italia l'abbiamo contestata e la contestiamo ciò non toglie che per noi il papa è il papa quindi il fatto che questa persona si firma di un egg è anche un'altra persona appunto questo roberto foppa vengono qua solo per parlare contro il papa mi intristisce perché secondo me noi dobbiamo essere uniti dietro pietro chiunque sia pietro questo è uno degli elementi del dell'essere cattolici allora andrea brenna dice l'europa non tolleri il neocolonialismo altro argomento che porteremo sicuramente nella campagna elettorale barbara moi ricorda che anche gesù incontrava tutti come il papa giustamente saluto vicente schiano che ci scrive dalla splendida isola di ischia io vi ringrazio anche per la partecipazione a questa diretta ricordo che la diretta di ieri ha fatto segnare 6.000 persone e sono molte magari si trasformino in firme vi ricordo che tutte queste riflessioni anche il pezzo sulla gente muta lo troverete domani sul quotidiano la croce vi chiedo di abbonarvi al quotidiano la croce www.lacroce quotidiano.it slash abbonarsi trattino ora di iscrivervi al popolo della famiglia di soprattutto firmare firmare per il simbolo del popolo della famiglia sulle schede elettorali alle prossime europee vedo che maurizio baroni dice condivido in pieno non ho altro da dire ti ringrazio molto e ogni tanto fa piacere leggere chi ti dice condivido in pieno non ho altro da dire perché è un modo semplice ma chiaro per dire che tutto sommato quello che sostiene il popolo della famiglia incontra la ragionevolezza e la riflessione delle persone questa è la nostra posizione porteremo questa posizione davanti al corpo elettorale faremo dunque quello che c'è nel nostro potere per far prevalere questa nostra posizione nella competizione elettorale europea metteteci in condizione di andare sulle schede elettorali e chiedere il consenso rossano giorello dice lo schema è sempre quello le colpe sono degli assenti rita madonna dice per ora è impossibile firmare a caserta con massimiliano esposito arriveremo anche fino a caserta di un egg mi dice non morire da un cristiano questa è una cosa ogni tanto torna di un egg non si firma quindi non dovrei rispondere a quelli che non si firmano io non trovo niente di male nel credere alla democrazia nell'essere cristiani è stato più o meno il leitmotiv della mia vita e penso che sarà così fino alla morte e non avrò timore a morire democratico cioè a credere che organizzarsi in maniera non violenta per cercare consenso sulle proprie idee sia un valore e penso proprio che morirò da cristiano e spero facendo in tempo per potermi comunicare e conciliare con dio con tutti i peccati che ovviamente ho compiuto nella mia vita confessati nell'ultima confessione al sacerdote vorrà offrimi conforti quindi sì questa frase non morirò democristiano è una frase un po tipica dura da 30 anni fra un po comincerà a diventare obsoleta e qualcuno forse comincerà a pensare che morire da democratico e da cristiano sia un buon modo di morire per me già questo pensiero è ben radicato ve lo dico con con grande chiarezza saluto daniela scavolini gisella aderenti gianfranco bellini gianmario brenna che arrivato col pdf di como guidato da andrea brenna io vi ringrazio per l'attenzione che avete dato anche a questa puntata di stampa evangelo vi chiedo un ultimo like un like alla puntata un condividi sulla vostra pagina un link inviato a tutti i vostri contanti messenger whatsapp e facebook con barbara moi che ha messo l'indirizzo vi ricordo che potete abbonarvi al quotidiano la croce e iscrivervi al popolo della famiglia tramite il link che ha proprio messo lei ora sulla timeline saluto fra antonio dorsi alessandra mondelli che dice grazie sempre prezioso e grande solo grosso come sapete saluto lorenzo damiano la splendida bionda maria luisa de carlo da lecce dove con l'arcivescovo seccia proprio sabato abbiamo affrontato queste tematiche abbiamo parlato chiaro su queste tematiche barbara cavallini squarcini cristiana di stefano di cui aspettiamo gli iscritti perché l'editoriale che ha firmato cristiana di stefano sul tema della disabilità che affronteremo anche in una puntata di stampa evangelo è stato molto letto è molto apprezzato grazie cristiana per quello che hai scritto sulla croce un saluto anche a stefano fusi a cui spero di aver dato corretta risposta rispetto alla sua a questione posta qui in chat un saluto a flaviano fortunato che scrive da lecce a marimar a michael toletti che dice alle europee vinceranno i sovranisti non è così se vai a guardare gli equilibri non è assolutamente così saluto danilo bassan che domani sarà sulla croce con un suo articolo quindi una ragione in più per leggere la croce saluto carlo bravi ricordando che il 9 sarò in piemonte appunto con carlo bravi e tanti altri per partecipare alle iniziative popola famiglia piemontese torino e vinovo saluto stefano fusi dice che è stata corretta la risposta se il numero uno bene e allora un abbraccio dice allora non morire juventino e no quello sicuramente insomma il primo giugno magari vado a morire a madrid alla finale di champions league sapete ho già preso il biglietto aereo quindi insomma ci credo proprio ci credo molto grazie a tutti anche a margherita ruffino e a tutti gli amici anche giuventini che ci sono qui in diretta vi abbraccio e vi do appuntamento alla puntata di domani di stampa evangelo arrivata anche alessia biaggi a gridare il suo juve sempre ne sono felice un abbraccio a flavia lanci dice maria di norfi condivido in pieno saluto anche lisabetta montanelli maria cristina de pascalis mauro chialastri altro juventino domenico trombino ma rimarra anche juventino allora mi raccomando alessandra trigila del pdf di modena grazie mario a volte è difficile orientarsi ed agire in quel ginebraio che è il mondo della politica so che è difficile ma spero di darvi una mano attraverso queste dirette saluto prisca vegni saluto emiliano velasco saluto il giornalista della sette edgardo culotta vice direttore del tg della sette che è venuto a seguire questa diretta saluto davvero tutti voi che con amicizia avete voluto dare retta a quello che avevo da dire sulla si watch che poi la linea del popolo della famiglia evidenziata nel testo che precede questa diretta che se vorrete poter leggere qui su facebook o domani sul quotidiano la croce un saluto anche a carmelo nobile fino alla fine forza juventus come dice domenico trombino ciao anche alisabetta marracini un saluto a cecilia vini che dice ormai sentire questi non mi sembra di essere tranici ciao a tutto il pdf un abbraccio a clara ferranti che parla di posizione chiara giusta priva di buonismi e di ipocrisia spero davvero di essere stato a questa altezza c'è anche patrice lozeralla che abbraccio fortemente anche perché proprio poche ore fa si è abbonato alla croce e quindi grazie patrice per il tuo sostegno al nostro quotidiano che tutti i giorni prova a fare il suo lavoro come antidoto alla propaganda per usare l'espressione che usa andrea brenna carmelo nobile no juventino che scrive la via reggio allora un saluto anche a te da maria di nolfi una buona giornata a tutti voi ci si trova domani sempre alle 9 45 sempre con stampa e vangelo sempre sulla pdf tv da maria di nolfi buona giornata a tutti